Io ti dico che Rocco ha dei problemi, perché aveva delle riviste porno sotto il letto, sì, proprio per quello. Ma come significa che ha cominciato a farsi le sedi? Cosa stai ascoltando? Jody McGee. E dai, Ro, non è morto nessuno. Il mio pisello, sì. Jody McGee, l'erede di Freddie Mercury. Sì, va bene. L'hanno beccato che si baciava col suo batterista. Ma infatti i paparazzi hanno rotto, ma che gliene frega se è gay. La ragazza nel bagno con Andrea. Ma chi è? La conosco. Sono io, mamma. Ma tu non sei mica. Dobbiamo parlare. No, anzi, devi parlare con papà. Questa è una fase di transizione. È un momento. Non è un momento, cazzo! Tu vuoi soltanto punirmi perché non vuoi che io sia così. Conosco il nome del Magalina Attur Pagnotta. Dov'è? Kulalun. Ma sta scherpigata! Mi vendo gli ovuli. Li faccio, tipo le guovo. Li piaccio online e li vendo. Sta cosa è geniale, oh! Ma carino de merda! A me mi pareva troppo poco, 150 euro per tre biglietti, eh. Ma Mauri, il problema non sono 150 euro per tre biglietti, ma la scritta tribuna con due b. Sapevate che Il Re Leone è il primo film Disney nel quale si fanno le... Quelle cose che fanno sempre ridere, avete capito? Sì, proprio così, beh. Cliccate qui accanto per altre curiosità, notizie e ovviamente trailer. Ma voi vi ricordate che era il personaggio che le faceva? Fatemi sapere nei commenti sotto. Ciao!